Ma come ti viene in mente di dire fesserie del genere? Lo sai che siamo all'anno? Il mento adesso è un pochino più a sinistra. Ah, che perfetto. Dov'è Vicky? Ma non è qui. Lo sappiamo, dove l'hai portata? Dov'è Vicky? Scusami, Arthur. Un'amica l'ha vista con te davanti alla scuola. Mi ha detto solo che doveva incontrare qualcuno a San Francisco. Lei non conosce... C'è vicino a Fisherman Worf. Perché non hai detto niente, Lenz? Ma stava benissimo. Può darsi che vi chiami domani. Devi augurartelo. Scusaci, Angela. Stavamo studiando e ci siamo addormentati. Non è successo altro. La colpa è mia quanto di Vicky. Va bene, Mario. Ti ringraziamo. Ieri non era andata a scuola per venire da me. Poi per una stupidaggine abbiamo litigato. Forse pensava che la respingessi, non so. E così se n'è andata. Sì, mi rendo conto. Forse lei pensa che nessuno la capisce. Beh, comunque io... Io non posso restarmene qui. Devo ritrovarla. Vengo con lei se non le dichiaro. Pensa, altrimenti non riusciremo mai a fermare l'emorragia. Erlich, per favore, chiudi quel vaso sanguigno. Corre di controllo al dottor Erlich. Ehi, Erlich. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio.